Ciao amici di Praia Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna, una scuola di Bali Caribice e non solo, si ricomincia alla grande con la Vuelta Lanzada. Adesso passo la parola alla dottoressa Balelli. Nel frattempo nel 2016 sono anche diventata dottoressa, non lo sapevo, va bene. Ok, detto questo passiamo subito ai nostri passi. Vuelta Lanzada perché? Perché poi dopo, visto che nelle ultime puntate vi abbiamo spiegato anche i piccoli primi passitos della salsa portoricana, andremo poi a eseguirli e a vedere le prossime puntate. Quindi in una base check, uno, due, tre, cinque, sei e sette, andiamo a eseguire questa Vuelta Lanzada. Cosa vuol dire? Che uno, due, al tre, l'uomo mi dà un piccolo input che mi fa capire che c'è qualcosa di diverso, al cinque mi lancia e io eseguo i miei passi di Vuelta da sola, cinque, sei e sette. Adesso torno frontale all'uomo, base, uno, due, tre, cinque, sei e sette, andiamo ancora, uno, due, tre e cinque, sei e sette. Anche qui, visto che sto girando da sola, ne approfitto per alzare le mie braccia e una piccola gestualità nel lancio, uno, due, tre e cinque, sei e sette, torna giù il mio braccio sinistro, uno, due, tre e mi dice eseguiamo dall'altra parte. Va bene, facciamo quello che vuole Claudio oggi, siamo bravi, buoni, via, uno, due, base, cinque, sei, Vuelta Lanzada, uno, due, tre, cinque, sei e sette, base, uno, due, tre, cinque, sei e sette. Direi che abbiamo fatto tutto quanto, mi raccomando, provate, provate e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao! Ciao, ciao!